siamo oggi nudi allora che san marco sito archeologico chiuso ancora non so da quanti anni ma non sono spesi le ore sono dove l'intubo città siamo I siti archeologici sono tutti, la maggior parte, in questo stato. Tutti lasciati. In fase di scavo, guardate. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.